Il ponte Muriano abbiamo detto che sta abbastanza bene, nonostante i suoi anni, evidentemente i nostri antenati erano più bravi di noi a costruire, forse non spingevano e stressavano la ricerca del risparmio e quindi privilegiavano la durabilità delle opere. 4 milioni per un ponte provvisorio e per sollevare così dal traffico pesante ponte Muriano, c'è una rimodulazione di risorse sia per la realizzazione del ponte provvisorio dello storico ponte Muriano sia per la progettazione del ponte definitivo che sostituirà così il ponte della Gioconda che a breve diventerà definitivamente solo un bene storico e artistico. Ci sono dei problemi localizzati ma che non infigiano assolutamente la stabilità globale dell'opera, dei problemi localizzati che possono essere risolti non necessariamente nell'immediato con investimenti anche modesti, quindi si tratta di intervenire su delle parti che per una serie di motivi si sono ammalorate più delle altre e quindi ripristinarle e riportarle a uno stato omogeneo al resto dell'opera. Con la delibera proposta dall'assessore alla mobilità e alle infrastrutture Stefano Baccelli viene approvata anche l'integrazione allo schema di convenzione fra Regione Toscana, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la provincia di Arezzo che adegua gli interventi. L'amministrazione come sapete ormai da quasi quattro anni ha intrapreso un cammino impegnativo ma determinato per la realizzazione di un ponte provvisorio e poi del nuovo ponte, siamo arrivati a buon punto finalmente anche se insomma il percorso è stato molto complesso e quindi partiremo a breve per la realizzazione del ponte provvisorio. Questo permetterà di spostare tutto il traffico definitivamente dal ponte su un'opera provvisoria e poi sulla nuova opera e quindi di risolvere sicuramente per il prossimo futuro eventuali problemi di sicurezza legati al ponte.